Buongiorno la pandella Il colore quale ha fatto? A me è coloscolo Signora allora oggi mare? Sì sì certo Oggi a mare Però non avete un po' paura? Non ce n'è covid Non ce n'è covid Non c'è niente In che senso non c'è niente signora? È finita tutta, a favore non abbiamo niente Dov'è il mio questo? Spero sai che potrebbero tornare i contagi Dobbiamo stare a stelle un po' A che tempo? A che tempo ci chiediamo tutti a casa Ma le mascherine ce le avete? Sì la mascherina Non è Signora si giri Ce l'avete la mascherina? L'avete portata comunque? Sì sì ce l'ha mio marito Sì Perché sa che se vi avvicinate poi la dovete indossare Certo State attenti Ok vabbè